Venerdì 17 febbraio 2006, data in fausa di per sé ma terrificante per Teramo. Alle prime luci dell'alba un boato risuona dalle colline teramane della specola, la discarica comunale, la torre, crolla rovinosamente e tonnellate di rifiuti si riversano in un laghetto sottostante. Il disastro ambientale che ne consegue è drammatico, un odore intollerabile per mesi affligge l'intera zona, il percolato si infiltra nel sottosuolo, il pericolo di inquinare la falda acquifera diventa reale e la magistratura apre un'inchiesta. In questi 15 anni le varie amministrazioni comunali hanno speso milioni di euro per bonificare il sito ma solo oggi è stato approvato il progetto di chiusura definitiva della discarica alla torre al termine della conferenza dei servizi cui hanno partecipato Regione Abruzzo, Provincia, Arta e Ufficio Ambiente del Comune di Teramo. Approvazione determinante per poter avviare l'iter amministrativo di redazione della progettazione esecutiva e del successivo affidamento dei lavori. Il sindaco Gianguido Dalberto, nominato dalla Regione Abruzzo commissario ad acta per la discarica alla torre, ha annunciato con soddisfazione di essere riuscito ad ottenere il finanziamento di 2 milioni 600 mila euro dal programma Masterplan Patti per il Sud. Somme che permetteranno di realizzare il pacchetto di chiusura, la reggimentazione delle acque meteoriche, il potenziamento del sistema di raccolta del pergolato e la sistemazione dell'impianto di captazione del biogas mediante realizzazione di nuovi pozzi. Un procedimento atteso da anni, una questione che portava con sé pesanti risvolti ambientali, economici e sociali. Grazie a questo intervento si riusciranno così ad abbattere i costi di smaltimento del percolato e a garantire finalmente il ripristino e la tutela ambientale dell'area, le cui matrici ambientali, acqua, suolo e aria, saranno comunque monitorate per ulteriori 30 anni, periodo cosiddetto post-mortem.